La Giunta Faentina ha ottenuto dal Consiglio Comunale, grazie ai voti della maggioranza, il via libera per stipulare il nuovo contratto d'affitto per la Scuola Media Europa, che rimarrà per almeno altri 25 anni nei locali del seminario. 225.000 euro all'anno il contratto d'affitto che si andrà a stipulare per un totale di 5.600.000 euro. 370.000 euro la richiesta iniziale della Curia, una richiesta che aveva dato vita ad un lungo contenzioso e aperto a numerose ipotesi. In tre anni la Curia eseguirà quindi i lavori di restauro delle immobili, 4.200.000 euro per adeguamenti sismici e degli impianti e per il consolidamento degli infissi, oltre alla realizzazione di un campo da gioco nel cortile della scuola. Alle canoni si andranno ad aggiungere 19.000 euro all'anno per l'affitto di 70 posti auto da destinare al personale scolastico aiutanti dell'ospedale, 270 euro a posto auto. L'AUS non contribuirà al pagamento dell'affitto nonostante le richieste dell'opposizione, in particolare del Movimento 5 Stelle, un parcheggio dove attualmente è però alto il rischio di presenza di parcheggiatori abusivi che potrebbero trasferirsi nella nuova area proveniendo dal parcheggio dell'ospedale, che invece verrà chiuso. In caso di un calo drastico degli studenti, con la scomparsa di almeno 6-7 classi, la Curia potrà recettare dal contratto. Come tutti i temi discussi nell'ultimo Consiglio Comunale, anche il contratto della Scuola Media Europa è stato al centro di un intenso dibattito dal quale si è astenuto il consigliere Ciricola di rinnovare Faenza, un tempo rappresentante della Curia. Per l'opposizione, la soluzione migliore sarebbe stata la realizzazione di una nuova scuola, opportunità prese in considerazione dal Comune quando le trattative si interruppero. Una nuova scuola sarebbe costata 7.300.000 euro, finanziabili anche mediante fondi europei o nazionali di dichiata scuole ed edifici innovativi, e avrebbe consentito di edificare un immobile all'avanguardia per risparmio energetico e sicurezza sismica. La spesa per la realizzazione del nuovo plesso sarebbe stata ammortizzata in 29 anni, come se fosse pagato un canone d'affitto di 320.000 euro, considerati gli interessi. Una questione sulla quale la Lega Nord è stata molto critica. Secondo il capogruppo Padovani, gli interessi si sarebbero potuti compensare grazie al risparmio energetico ottenuto, arrivando quindi ad un canone di 251.000 euro, di poco superiore a quello concordato con il seminario. Un calcolo sul quale però, discordanti, sono stati pareri e ritenuto dalla maggioranza poco aderente alla realtà. Di fatto, però, ha sferzato il Movimento 5 Stelle, con l'aggiunto di poco più di un milione di euro, si avrebbe avuto una scuola di proprietà a disposizione, al contrario dell'attuale accordo che non tiene conto dei mancati lavori svolte della proprietà negli anni scorsi. L'opzione nuova scuola fu tuttavia scartata dalla Giunta perché non si riuscì a trovare un luogo adatto e di proprietà comunale all'interno dello stradario di pertinenza dell'Europa. Esclusa a priori la zona della punta degli orti, appena riqualificata, l'unica scelta poteva richiedere sul parco Stacchini, ma gli 11.000 metri quadrati della scuola avrebbero richiesto la disponibilità di quasi metà del parco, una scelta non ritenuta pertinente ad uno sviluppo sostenibile della città. L'altra soluzione per evitare di costruire una scuola fuori dall'area urbana sarebbe stata la Graziola, come suggerito anche dall'opposizione, una proposta sulla quale il Comune ha ragionato, finendo poi con lo scartarla, per questioni di viabilità. Oltre ad essere in una zona molto distante rispetto all'attuale Europa, la scelta della Graziola avrebbe causato problemi di viabilità e sarebbe stata essa stessa di difficile raggiungimento, avendo i passaggi a livello presenti su tutte le strade provenienti dalle aree residenziali. In una cinquantina d'anni, ha fatto notare l'altra affenza, la città non è riuscita ad ottenere un immobile confacente agli studenti e alla loro sicurezza. Nel 2011 la scuola rischia di rimanere anche chiusa, una mara considerazione alla quale hanno ribattuto il Partito Democratico e insieme per cambiare, evidenziando che per la prima volta negli ultimi sette anni si ha la certezza che i lavori per la sicurezza verranno eseguiti, mentre la costruzione di una nuova scuola sarebbe stata soggetta anche al rischio del calo delle nascite, oggi in costante aumento, con un già previsto calo drastico della popolazione scolastica a partire dal 2020. La Giunta ha quindi ottenuto il permesso a firmare il contratto. I primi lavori per la messa in sicurezza della scuola dovrebbero partire la prossima estate.